Amate la giustizia, voi che governate sulla terra, rettamente pensate del Signore, cercatelo con cuore semplice. E lì infatti si lascia trovare da quanti non lo tentano, si mostra a coloro che non ricusano di credere in Lui. I ragionamenti tortuosi allontanano da Dio. L'onnipotenza messa alla prova caccia gli stolti. La sapienza non entra in un'anima che opera il male, né abita in un corpo schiavo del peccato. Il Santo Spirito che ammaestra, rifugia dalla finzione, se ne sta lontano dai discorsi insensati, è cacciato al sopraggiungere dell'ingiustizia. La sapienza è uno spirito amico degli uomini, ma non lascerà impunito chi insulta con le labbra, perché Dio è testimone dei suoi sentimenti e osservatore verace del suo cuore e ascolta le parole della sua bocca. Difatti lo spirito del Signore riempie l'universo e abbracciando ogni cosa conosce ogni voce. Per questo non gli sfuggerà chi proferisce cose ingiuste. La giustizia vendicatrice non lo risparmierà. Si indagherà infatti sui propositi dell'empio. Il suono delle sue parole giungerà fino al Signore, a condanna delle sue iniquità. Poiché un orecchio geloso ascolta ogni cosa, perfino il sussurro delle mormorazioni non gli resta segreto. Guardatevi pertanto da un vano mormorare, preservate la lingua dalla maldicenza, perché neppure una parola segreta sarà senza effetto. una bocca menzoniera uccide l'anima. Non provocate la morte con gli errori della vostra vita, non attiratevi la rovina con le opere delle vostre mani, perché Dio non ha creato la morte e non gode per la rovina dei viventi. Egli infatti ha creato tutto per l'esistenza. Le creature del mondo sono sane, in esse non c'è veleno di morte, né gli inferi regnano sulla terra, perché la giustizia è immortale. Gli empi invocano su di sé la morte con gesti e con parole, ritenendo l'amica, si consumano per essa e con essa concludono alleanza, perché sono degni di appartenerle. Grazie per la visione!